Quadrozzi! Chi è? Ma sarebbe Quadrelli! Sti cazzi! Ha fatto la rima! Sì! Lei sa cos'è l'appendicite? Sì! Ve lo dica! Adesso! Adesso! Davanti a tutti! Davanti a tutti! Allora, dunque, dice sì! Appendicite! Appendicite! È tutto un... Un cosa? Un po'... Cioè, ha anche le... Le ali! No, non le ali! Cioè, ha una... Proboscide! No, è la coda perché sta dietro! Vabbè! Ma lei ha anatomia! Sì! Ah, sì! È un gancio! Ma c'è un gancio? Eh sì, è un gancio tipico di Amazzola che tutti i giorni alle 18 e 15, tranne la domenica, fanno scendere nelle foreste Amazzola e praticamente attaccano le scime! Sì! Eh sì, per questo si chiama Appendicite! Abbi abbiata! Quasi! Abbiata!